Tutto il cielo che serve, Franco Faggiani, il quarto libro che Faggiani pubblica con Fazzi e devo dire che hanno tutti secondo me una caratteristica in comune, ora vi dirò qual è. Allora, Franco non scrive libri allegri, non sono libri allegri, ma sono libri che infondono in qualche maniera una grande serenità, io ho trovato e soprattutto l'ho sentito molto in questo caso anche perché in questo caso la protagonista è una donna, si chiama Francesca Capodiferro ed è un vigile del fuoco, una vigilessa del fuoco, che viene a trovarsi per una serie di motivi nei pressi di Amatrice la notte del terremoto del 2016 e quindi viene attivamente coinvolta, si auto coinvolge attivamente nei soccorsi. Il motivo di questa serenità è che a un certo punto Francesca non ce la fa più, dopo qualche giorno, una settimana, forse meno, viene rimandata a suo comando a Roma a riposare perché questi si sono veramente spesi in una maniera che noi non possiamo neanche immaginare e viene mandata a riposare. Quando si è riposata, lei però ha questo tarlo di voler ritornare lì perché ci sono delle cose che vorrebbe fare, che sente che nessuno ha fatto e che lei dice posso farle solo io, voglio tornare, penso che sia una sensazione diffusa tra questi soccorritori e le viene detto, Francesca non rompere, tu devi riposare, ci sono persone più fresche di te che stanno facendo questo lavoro e quindi tu lo faresti peggio e soprattutto dopo una settimana tutto quello che si poteva fare si è fatto e con questo abbiamo capito di cosa stiamo parlando e lei se vuoi tornare là tornaci ma per noi tu sarai in ferie e lei ritorna. Io ho trovato questo fatto di dire la responsabilità di farti smettere, ce la prendiamo noi e la responsabilità di dirti che il tempo ha fatto il suo lavoro su questa situazione e tu non puoi fare più nulla, cioè toglierti questa responsabilità a me ha dato una grandissima sensazione di serenità ed è questo secondo me il messaggio dei libri di Franco che bene o male arrivano sempre a questo punto ed è il segreto del loro successo. detto questo la vicenda è appena iniziata, cioè le vicende che riguardano e di cui Francesca è protagonista sono ancora tante per cui una lettura sicuramente appagante e per l'appunto serena.